Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6, associazioni di categoria e ambientalisti uniti contro l'approvazione del progetto Megalò 2, un'opera che rischia di mettere in ginocchio il commercio e la sicurezza ambientale. Il servizio firmato da Francesca Romana Testi. Il progetto Megalò 2 di Chietiscalo continua la sua marcia di realizzazione, nonostante le proteste e le denunce di commercianti ambientalisti che continuano a chiedere l'abolizione di un progetto che impoverirà ancora di più il comparto commerciale dei piccoli esercenti del centro città e anche quelli prossimi alla sede dello scalo. Da canto loro gli ambientalisti avevano da sempre lamentato la pericolosità ambientale del sito e il rischio idrogeologico evidente ad ogni pioggia più intensa. Oggi, a 24 ore dal pronunciamento del Comitato Via, associazioni di categoria ambientalisti si sono uniti per ribadire la contrarietà al progetto ed ottenere uno stop ai lavori. Noi abbiamo presentato delle osservazioni al Comitato Via dove sostanzialmente diciamo che oltre alle autorizzazioni edilizie del caso c'è bisogno anche delle autorizzazioni commerciali che in qualche modo sono stabilite dalla legge regionale sul commercio. Siccome questo ITER non è stato attivato, riteniamo che in qualche modo bisogna tornare alla conferenza dei servizi per esaminare bene se ci sono tutti i presupposti per autorizzare le superfici in quanto superfici di vendita. Tutte le associazioni di categoria del mondo del commercio, del mondo dell'artigianato, ci sono i consorsi di via che animano in particolare la città di Chieti e poi soprattutto ci sono le due associazioni ambientaliste WWF e Legambiente con cui in qualche modo abbiamo unito le forze proprio per condurre questa battaglia. Chiaramente Megalò per il nostro punto di vista rappresenta un'opera dannosa per la salute pubblica ma in ogni caso visto il coinvolgimento di tutte le altre forze attive e sociali della nostra città è anche un danno per loro, per le attività, quindi un danno economico. E la Confcommercio annuncia una manifestazione all'Aquila proprio dove il Comitato Via si riunirà per l'approvazione del progetto Megalò 2 a partecipare tantissimi commercianti e la protesta non si fermerà in caso di approvazione. 10. Forse 11 autobus domani partiranno da Chieti per raggiungere l'Aquila nel giorno del pronunciamento del Comitato Via sul progetto Megalò 2. L'iniziativa è stata promossa da Confcommercio che alle 10 esatte insieme a tutti gli operatori del settore si sono dati appuntamento proprio dove si decideranno le sorti dell'intero comparto annunciando sin da ora l'intenzione di non fermare la loro marcia contro il progetto. Ci mettiamo la faccia, riempiamo i pullman e andiamo all'Aquila dove alle 10 è stato convocato un Comitato Via che pare si dovrà esprimere su questo nuovo insediamento del Megalò 2. Nella seduta del 16 marzo il Comitato Via ha già come dire chiesto di potenziare gli argini. Sicuramente sono state utili le osservazioni delle associazioni ambientaliste. Noi riteniamo di non aver competenza su questi argomenti che sono molto specifici ma sicuramente domani andremo a protestare e sarà la protesta un grido di dolore di tutta la categoria delle piccole e medie imprese che poi sono la spina dorsale del nostro Paese. Abbiamo già chiesto da tempo che ci fosse che si ritornasse a un riequilibrio tra la grande distribuzione e il piccolo commercio. Se le forze politiche e comunque questo Comitato Via non capirà le nostre motivazioni noi non demorderemo e quindi siamo disposti e già organizzati a delle azioni anche un po' più significative. In aggiunta ai continui aumenti dei pedaggi autostradali ora anche il mancato presidio dei caselli autostradali nella fascia oraria notturna 22.6 in alcune stazioni della rete A24, A25 ed in particolare in quelle di Tagliacozzo, Pescina, Assergi e Cocullo. A denunciarlo è il consigliere regionale Maurizio Di Nicola. Ciò vuol dire, osserva, che in presenza di un qualsiasi malfunzionamento del sistema di esazione automatica del pedaggio autostradale o in qualsiasi alta situazione di difficoltà l'utente non avrà a disposizione dell'assistenza immediata da parte del personale incaricato. Quanto sta accadendo è davvero inaccettabile, sottolinea il consigliere, poiché costituisce una limitazione del servizio offerto, oltre a destare serie preoccupazioni in relazione alle possibili ricadute negative sul piano occupazionale, se tale modello dovesse estendersi su ampia scala. Nei prossimi giorni, sentiti i sindaci dei territori interessati, fa infine sapere Di Nicola, invierò una nota alla Direzione Generale per la Vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere se questa decisione assunta da strada dei parchi è compatibile con le norme di convenzione concessoria. Divieto di transito con decorrenza immediata sul ponte autostradale numero 277 dell'A14 in via San Pietro Linari di San Lorenzo di Vasto. Il tratto interessato è quello tra Vasto Nord e Vasto Sud, al chilometro 440. Il ponte sarà oggetto nei prossimi giorni di sopralluoghi e lavori di manutenzione. In particolare saranno fatte delle verifiche tecniche approfondite sulla sua stabilità. L'ordinanza è stata emanata dal dirigente del servizio di polizia municipale di Vasto dopo una segnalazione della società autostrade S.p.a. impegnati nei controlli dei cavalcavia dell'intera rete autostradale. Cambiamo pagina. Il Movimento 5 Stelle critica la regione Abruzzo sulla ritardata attuazione e pubblicazione di bandi denunciando che ci sono 370 milioni di euro fermi nei cassetti della Giunta. Paolo Renzetti. Consigliera Marcozzi, si parla di bandi regionali. Voi avete qualcosa da ridire alla regione, in particolare al presidente D'Alfonso. Perché? Beh, è l'Abruzzo che ha qualcosa da ridire al presidente D'Alfonso. Perché parliamo di fondi FESR ed FSE, una dotazione di 370 milioni di euro. Ad oggi sono stati pubblicati bandi per soli 46 milioni. Ricordo che il direttore generale della regione, quindi la regione, aveva promesso la pubblicazione entro il marzo 2017, quindi ci siamo, di bandi per almeno 186 milioni. Quindi siamo in forte ritardo. Le promesse di una regione facile e veloce sono evidentemente andate in fumo. Quello che noi chiediamo è la pubblicazione immediata di tutti questi bandi per non perdere le risorse da parte dell'Europa. La giunta regionale nella seduta straordinaria di ieri ha approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019. Con il piano, ha spiegato Cristina Gerardis, direttore generale della regione Abruzzo, sono state adottate misure volte a evitare o comunque minimizzare il rischio di fenomeni corruttivi o atti imparziali, tenendo ben presente il tema della trasparenza che è alla base della politica anticorruzione. Queste misure, prosegue, si ritrovano innovativamente nel piano delle performance del personale e costituiscono pertanto un obiettivo da raggiungere per ottenere una valutazione positiva del lavoro svolto, ciò che porta con sé una diretta responsabilizzazione dei dirigenti e dei funzionari regionali. Nel documento viene data rilevanza la formazione di dirigenti e funzionari relativamente agli strumenti anticorruttivi, nonché al costante monitoraggio dell'effettiva realizzazione delle azioni e degli adempimenti previsti. Secondo quanto reso noto dalla direttrice generale, in fase di consultazione sono pervenute pochissime osservazioni emendative, ma sono state prese in considerazione anche proposte di forze politiche di minoranza, constatando con soddisfazione che tutte le mozioni e le direttive esaminate sono in realtà già integralmente recepite nel piano licenziato ieri dalla Giunta. Andiamo a Teramo, l'amministrazione Brucchi avrebbe in cassa circa 9 milioni di soldi destinati al finanziamento di importanti opere pubbliche mai realizzate e la denuncia dei quartieri Cona, Colle Atterrato e San Berardo che hanno costituito un coordinamento di protesta insieme alle associazioni Teramo Nostra e Demos. Tania Bonici Castelli Si è costituito a Teramo un coordinamento dei quartieri più popolosi della città, San Berardo, Colle Atterrato e Cona, di cui fanno parte anche le associazioni Teramo Nostra e Demos, insieme per denunciare ritardi nella realizzazione di alcune opere pubbliche già finanziate, vitali per quelle zone e per l'intero capoluogo. La domanda unanima è rivolta all'amministrazione Brucchi, dove sono finiti i soldi già stanziati per la fornace della Cona, per la scuola materna di San Berardo e per il teatro romano? Il quartiere Cona ha due bombe ecologiche, una è la centrale elettrica che aspetta da anni, da decenni per essere derocalizzata e l'altro aspetto, secondo me, importante quanto la prima è quello dell'area ex fornace Cona. Sulla quale c'è un finanziamento di 5 milioni di euro, dove sono andati a finire questi 5 milioni di euro? Ho chiesto più volte, quantomeno che si facesse l'esproprio dell'area, visto che ci sono i 5 milioni di finanziamento, questa cosa non è avvenuta, non è avvenuta e io ritengo a questo punto che non avverrà, anche perché attraverso gli atti che io ho esaminato ho visto che una parte di questi importi sono stati destinati ad altri fini. Come quartiere San Berardo che cosa denunciate? Denunciamo il fatto che comunque pur il quartiere, cioè la sede del quartiere e quindi la scuola materna che c'è sotto la nostra sede, pur avendo avuto dei fondi per l'adeguamento al sisma, questi fondi sono stati già stanziati da qualche anno subito dopo il sisma dell'Aquila e pur essendoci già un progetto esecutivo, questi fondi non vengono utilizzati, non sappiamo come mai, i fondi sono lì a disposizione e i lavori non partono. Di che cifra si tratta? Parliamo di circa 233 mila Euro che comunque poi sono stati anche aumentati e comunque mi dicono che sono ancora lì a disposizione e che potrebbero non essere utilizzati per il comitato di quartiere e quindi per la scuola materna. Il sindaco dice che va a Bruxelles a cercare i soldi, a Roma, ma i soldi lui non è che non ce li ha perché ha 3 milioni e mezzo per il teatro romano, 4 milioni per il corso, 5 milioni per la CONA, chi ce l'ha oggi tutti questi fondi a disposizione per far sì che queste opere andassero avanti? E l'incapacità amministrativa? Noi prima di tutto abbiamo subito il terremoto amministrativo e dopo anche gli eventi naturali purtroppo sismici e di neve, questa è stata la tragedia della nostra città. Stando ai conti stilati dal nascente coordinamento dei quartieri terramani, i soldi pubblici in cassa già stanziati per queste opere di riqualificazione dovrebbero ammontare a quasi 9 milioni di Euro e non sono pochi. Il consigliere regionale del Partito Democratico Pierpaolo Pietrucci, il presidente della società Idrica Gran Sasso Acqua, Americo Di Benedetto e il segretario regionale dell'Italia dei Valori, Lelio De Santis, saranno i candidati alle primarie per la scelta del candidato sindaco dell'Aquila per il centro-sinistra con la coalizione denominata Vivendo l'Aquila. Le pre-consultazioni si svolgeranno il 9 e 10 aprile prossimi, lo conferma il segretario comunale del Partito Democratico Stefano Albano, appena scaduti i termini per le candidature che si potevano presentare fino alle ore 12 di oggi. Una funivia collegherà Chieti Scalo con il centro-città. La notizia è stata ufficializzata dal sindaco Umberto Di Primio che annuncia il reperimento di altri 4 milioni di Euro precedentemente destinati al progetto di Teramo rifiutato dal sindaco Brucchi. Due anni di attesa, i Chieti avranno una funivia di collegamento tra la zona dello Scalo, dove si concentrano le sedi dell'Università d'Annunzio, e il centro storico, sempre più spoglio e povero di residenti. La notizia arriva dal sindaco Umberto Di Primio che annuncia il reperimento di altri 4 milioni di Euro a quelli già destinati al progetto. Fondi originariamente destinati dal masterplan alla funivia che invece doveva sorgere a Teramo per compiere l'identica funzione, collegare l'area universitaria al centro-città. E dopo il no di Maurizio Brucchi sarà a Chieti a beneficiarne anche se in parte. La funivia di Chieti è una funivia che non solo sarà un'infrastruttura capace di dare alla città un nuovo elemento di attrazione perché oltre ad avere una funzione chiaramente di collegamento tra la parte alta e la parte bassa della città in un tempo rapidissimo perché parliamo di 6 minuti di tempo per arrivare dall'ospedale sino al centro storico è anche una grande attrazione turistica. È un trasporto massivo, cioè dove riusciamo a portare molte persone in un brevissimo tempo è un'opera che ci consente soprattutto di mettere insieme l'anima pulsante in questo momento della città che è l'area dove insistono ospedale e università con il centro storico, con l'anima storica della nostra città. Siamo in attesa solo della ufficialità del trasferimento su quel capitolo di quei soldi e sull'approvazione da parte del comitato. Ovviamente se e quando arriverà la notizia, al più presto mi auguro, sarà anche avviata la procedura per la selezione del progettista del preliminare e quindi poi dell'esecutivo. Entro dicembre 2017, secondo il cronoprogramma che noi ci siamo dati, avremo possibilità di approvare il definitivo e di affidare i lavori. Quindi nel tempo di massimo due anni, cioè entro il dicembre del 2018, io conto di poter restituire alla città dell'Abruzzo una nuova infrastruttura. Dopo il trasferimento del soprintendente di Gennaro in Sardegna, c'è timore di uno stop all'iter per i lavori riguardanti lo stadio Adriatico. A tal proposito abbiamo ascoltato l'assessore allo sport Giuliano Diodati. Assessore Diodati, il trasferimento in altra sede a Sassari, per la precisione, del soprintendente d'Abruzzo di Gennaro potrebbe arrecare qualche problema alla ristrutturazione dello stadio Adriatico quando sembrava che potessero esserci davvero i motivi per essere ottimisti. A questo punto cosa potrebbe accadere? Riprenderemo il percorso con il nuovo soprintendente. Credo che nel giro di qualche settimana ci sia la volontà di andare a parlare a Roma, con i vertici del Ministero, perché siamo arrivati, sono due anni che noi come amministrazione comunale stiamo cercando di andare dietro per vedere e valutare la possibilità che questo investimento importante possa essere fatto. Credo che è arrivato il momento di mettere la parola a fine, nel senso che in un verso o nell'altro, nell'arco di un periodo di tempo relativamente breve, vorremmo cercare di sapere se è possibile creare questa nuova infrastruttura su Pescaro. Non tornerete indietro comunque? No, non torniamo indietro perché noi abbiamo puntato sin dall'inizio su questo progetto, che non è un progetto solo relativamente relativo al discorso del calcio, dello stadio, insomma è un progetto di riqualificazione di una zona importante della città che vive delle difficoltà, per cui sicuramente non torneremo indietro. Sospensione dell'erogazione idrica per 12 ore a Pescara dalle 14 di domani, giovedì 24 marzo, nel quadrilatero di via Paolucci, Riviera Nord, fino al confine con Monte Silvano, via Caravaggio e via Ferrari, inclusa la zona di via del circuito e via Limitrofe. Il vice sindaco del comune di Pescara informa che si rende necessario tutto questo affinché l'ACA completi i lavori per la sostituzione delle 5 saracinesche della rete idrica poste all'interno della camera di manovra che si trova su via Venezia, angolo via Firenze. In queste zone la normale erogazione sarà ripristinata nel corso delle successive 24 ore dall'intervento, durante le quali si potranno verificare dei cali di pressione. E ora ci spostiamo a Francavilla per parlare della vicenda della demolizione del Palazzo Sirena dopo l'intenzione della soprintendenza di vincolare Palazzo Sirena, arriva la risposta del primo cittadino Antonio Luciani. Sindaco Luciani, la soprintendenza, notizia di poche ore fa, potrebbe decidere di vincolare Palazzo Sirena. Questo potrebbe ritardare, tutto questo, diciamo l'obiettivo della demolizione di una parte di questa struttura che è nel programma della sua amministrazione. Lei cosa pensa? Intanto diciamo bene come stanno le cose. La soprintendenza avvia la procedura per verificare se mettere o meno il vincolo. Questa cosa ci ritarda perché noi oggi stavamo per aprire le buste per aggiudicare la gara per la demolizione. Quando si avvia un procedimento del genere purtroppo c'è una norma che ci dice che dobbiamo attendere l'esito. Quindi la prima cosa che auspico è che la soprintendenza faccia in fretta, ci metta il tempo minimo che sono 30-35 giorni per poter decidere se vincolare o meno il Palazzo Sirena. Nel merito io penso che tutto questo sia veramente un grande malinteso perché si vorrebbe sostenere da parte di alcune associazioni che la Sirena ha un valore etno-antropologico per la città, cioè abbia una rilevanza per la vita sociale di questa città. Ebbene Palazzo Sirena non è un mistero, è chiuso da oltre 30 anni, ha una vita di 65 anni. Negli anni precedenti è stato sede di un bar, di un ristorante, di qualche torneo di subuteo piuttosto che di biliardino e non mi sembra che si possa parlare di un valore etno-antropologico di grande rilevanza e che quindi vorrei capire il sovrintendente come possa sostenere poi di un valore etno-antropologico quando i tre quarti della città non ha mai visto aperto il Palazzo. Ci sarebbe da dire tanto altro, io mi auspico, ci sto a far prendere tutti gli accertamenti del caso, il sovrintendente fa il suo lavoro, lo deve fare con coscienza, lo deve fare con tranquillità. Noi vorremmo arrivare all'abbattimento prima dell'estate e quindi mi auguro che questa procedura si chiuda nel più breve tempo possibile. I reporter della più diffusa rivista per la terza età in Nord America, Overseas, sono in Abruzzo per conoscere e toccare con mano la qualità della vita nella nostra regione. Presidente Becci, oggi in Camera di Commercio a Pescara c'è un incontro di lavoro con giornalisti americani arrivati in Abruzzo per vedere come si vive nella nostra regione, come funziona soprattutto il servizio sanitario ma non solo. Parliamo di giornalisti della più importante rivista americana dedicata alla terza età. Sì, assolutamente. Overseas è la rivista del Nord America più diffusa, si rivolge a circa 500 mila persone che come ben diceva lei in fascia d'età alta e quindi anche con una buona potenzialità di acquisto. Questa rivista attraverso l'editore, uno dei suoi giornalisti di punta che si chiama Catherine Pedicor, senza che nessuno la invitasse, circa tre anni fa è venuta nel nostro Abruzzo, ha verificato quello che era un po' la qualità della vita, la bellezza della natura, la qualità dei servizi e ci ha posto in una prima inchiesta tra i primi 15 posti al mondo per qualità della vita, più fruibili da parte appunto questo tipo di utenza che sono gli anziani. E addirittura nell'ultima inchiesta che è stata fatta tre anni fa noi siamo al quinto posto, per cui ci siamo sentiti in dovere perché sicuramente una rivista così importante che da noi è poco conosciuta ma negli Stati Uniti, nel Nord d'America è molto diffusa, ha messo in rilievo quelle che sono le peculiarità del nostro territorio e la qualità dei nostri servizi che vede noi tante volte disprezziamo, invece di stamattina che qui ci sono due giornalisti che sono venuti, invitati da noi, che abbiamo voluto premiare questa rivista Miss Pedicor perché riteniamo che questi siano i migliori ambasciatori, chi viene qui a visitare il nostro territorio e poi torna nel proprio paese e scrive a un pubblico, come le dicevo, con grandissime potenzialità. Da domani sarà proiettato al Cineplex di Colonnella Sfession, un film diretto dal regista albenze Mauro John Capece che parla della crisi che investe un'azienda del comparto testile della Val Vibrata e come questa si ripercuote sul titolare e sui dipendenti dell'attività. Vediamo. Elvezio Rosati e Gabriele Silvestini sono due degli interpreti di un film Sfession che è di prossima uscita, in particolare a Colonnella, il prossimo 23 marzo. Tocca un po' con mano questa pellicola, la crisi che sta attraversando tra le altre aree, la Val Vibrata. Sì, in effetti è un film di prossima uscita che nasce da un'attenta analisi, da un'attenta osservazione della situazione economica di alcune imprese del nostro territorio, con un particolare però riferimento all'industria tessile, all'industria della moda. In effetti il film è la storia di Evelyn, una imprenditrice, una giovane donna imprenditrice di terza generazione che eredita questa azienda di moda con un brand veramente formidabile, dal nonno, però si trova a vivere adesso una condizione veramente difficile e di crisi. È un tema sicuramente molto attuale, ricorrente, non nuovo, però Mauro Gioncapece con la cosceneggiatura anche di Corinna Coroneo hanno cercato di valutare soprattutto l'aspetto intimo, interiore del personaggio di Evelyn, proprio perché questa donna ha cercato da sempre di gestire la sua azienda come una vera famiglia, come quindi di un insieme di affetti, di condizioni esistenziali singole. Purtroppo all'improvviso in questa fase, negli ultimi anni, si trova a vivere questa crisi e però si trasforma in una crisi anche personale, di rapporti sociali e quindi anche in una crisi esistenziale. Il tema proprio, vero e proprio del film sarebbe anche da guardarlo sotto il punto di vista artistico, delle immagini, dei colori, suoni e di come è stato girato, perché c'è da ricordarsi che un film non è solo rappresentazione di una storia, bensì e soprattutto come viene rappresentata una storia e il modo, cioè il modo artistico di rappresentarla, soprattutto insomma è spettacolo, quindi anche se è un dramma è comunque spettacolo e questo è quello che conta, perché deve comunque far rimanere qualcosa quando si esce fuori la sala del cinema. Apriamo la pagina dello sport, è fissata per domani la ripresa degli allenamenti del Pescara dopo tre giorni di riposo, squadra che sarà a lavoro senza i nazionali che torneranno all'inizio della prossima settimana. Riprenderanno domani pomeriggio gli allenamenti del Pescara allo stadio comunale di Città Sant'Angelo. Zeman ha approfittato della sosta di campionato per gli impegni delle nazionali per dare tre giorni di riposo al gruppo che si ritroverà senza i giocatori convocati. L'Edian Memushay giocherà con la nazionale albanese contro gli azzurri di Ventura venerdì sera a Palermo, match valido per le qualificazioni mondiali e poi in amichevole a Elbasan contro la Bosnia il prossimo 28 marzo. Valerio Verre e Alberto Cerri saranno impegnati con l'Under 21, a proposito dopo le ultime defezioni è stato convocato anche l'ex Biancazzurro Mandragora. Azzurrini in campo domani sera a Cracovia contro la Polonia e lunedì sera contro la Spagna all'Olimpico di Roma. Verre e Cerri saranno a disposizione di Zeman da martedì prossimo con il Delfino che continuerà a lavorare per la ripresa del campionato quando l'Adriatico Cornacchia sarà di scena il Milan. Giorni che saranno utili per consentire il pieno recupero a chi è acciaccato come Mitriza, Pepe e Stendardo o chi è rientrato in gruppo ma non è ancora al massimo come Baebek e Campagnaro. Giorni nei quali si capirà se Zeman vorrà dare delle chance maggiori a Koulibaly, convocato per la prima volta e fatto debuttare nella ripresa a Bergamo. Il gioiellino senegalese ha confidato ai nostri microfoni di essere tifoso del Milan e di tenere molto alla prossima gara. Probabilmente è utile cavalcare l'entusiasmo di Koulibaly piuttosto che affidarsi a un Montari ancora fuori condizione o un Verre già con la testa altrove, posto che con il Milan tornerà disponibile Bruno dopo aver scontato una giornata di squalifica. Pescara-Milan sarà la prima di tre partite consecutive casalinghe, le altre con Juventus e Roma, per la quale la Pescara Calcio ha ritoccato al rialzo i prezzi dei biglietti portando le due curve a 25 euro, la tribuna adriatica a 35 euro laterale e 45 euro centrale, tribuna maiella a 150 euro centrale, 70 laterale e le poltronissime a 250 euro. I tagliandi di Pescara-Milan saranno acquistabili sui punti vendita Ticket One o presso lo store ufficiale di Via Regina Margherita dalle ore 10 di lunedì prossimo, 27 marzo. E ora la Lega Pro nel corso della trasmissione Pro Teramo di ieri sera è intervenuto telefonicamente il portiere del Mantua ed ex Teramo Alessandro Tonti che conferma la partita di domenica prossima proprio tra Mantua e Teramo non sarà come tutte le altre, vediamo. Sicuramente sarà una partita diversa da tutte le altre, perché a Teramo ci ha lasciato il cuore, a Teramo ho passato due anni bellissimi, ho passato due anni indimenticabili, sia nei momenti positivi che negativi. Come ripeto, a Teramo non si ha lasciato il cuore, quindi affronteremo questa partita per 90 minuti l'avversario, però sai, a Teramo è Teramo, ecco. C'è mai stata Alessandro la possibilità di rimanere a Teramo quest'estate? E' una domanda un po' particolare, la società ha fatto le sue scelte, io avevo un altro anno di contratto e poi dopo diciamo che ecco la società ha fatto le sue scelte e non è Alessandro Tonti che volevo andare via, ecco volevo solo riferire questa cosa. Che partita ti aspetti, che Teramo ti aspetti? Insomma immagino che l'abbiate cominciato a studiare, ma che gara sarà secondo te? No, il Teramo è una grande squadra, i risultati in questo momento non lo stanno dimostrando, perché Teramo è una gran squadra con grandi giocatori, poi purtroppo per fortuna le annate non sono tutte uguali, ci sono anche le difficoltà e quindi sicuramente sarà una partita molto tirata, una partita difficilissima per entrambe le squadre, che vinca al migliore. E ora parliamo di rugby, nella partita di domenica prossima l'Aquila Rugby scenderà in campo con una particolare divisa, con la scritta La Forza di una Terra, iniziativa condivisa con altre importanti realtà sportive abruzzesi. Germana Dorazio. Gli atleti neroverdi dell'Aquila Rugby Club scenderanno in campo domenica prossima al fattori contro i Medici con stampato sulla maglia Abruzzo La Forza di una Terra. Un progetto che la squadra neroverde sta conducendo insieme alle maggiori realtà sportive abruzzesi come il Chieti al Roseto Basket e il Pescara Calcio. L'intento è quello di promuovere il territorio abruzzese portandolo all'attenzione di un pubblico nazionale per la sua rinascita e per il suo rilancio, dopo gli eventi catastrofici degli ultimi mesi. Riteniamo giusto che l'Aquila Rugby partecipi alla vita regionale e soprattutto alla rinascita della regione Abruzzo. Difatti è come se fosse un my sponsor di cui prendiamo il nome e abbiamo fatto una richiesta in federazione che a questo punto del campionato se ci viene autorizzata dalle prossime domeniche che ci chiameremo Abruzzo L'Aquila Rugby Club. Il presidente Zaffiri torna a rimarcare l'importanza del sostegno economico da parte di imprenditori politici e cittadini per la squadra neroverde per consentire al rugby di finire il campionato. Sono incerte infatti le ultime due trasferte della squadra neroverde per mancanza di fondi per far fronte alle spese di viaggio, di vitto e alloggio. Chiudiamo con la pallannuoto femminile. Nell'ultimo fine settimana sconfitta a Casalinga per il Pescara contro il Rapallo per 5-8. Campionato di Serie 1 femminile di pallannuoto, non può essere soddisfatto il Pescara che in casa contro il Rapallo perde per 5-8. Era uno scontro diretto per evitare la retrocessione, ma bisogna dire che l'impegno c'è stato. Poi c'è stato un blackout nel terzo tempo che di fatto ha compromesso la partita. E poi altro dato abbastanza eloquente, le superiorità numeriche. Proprio non riuscite a migliorare la percentuale a vostro favore. Qui si decide la partita? Sicuramente, anche perché poi dipende dai momenti in cui arrivano le superiorità numeriche e nei momenti in cui si sbagliano. Ci sono momenti topici nel corso della partita e lì bisogna cercare di mettere la palla dentro. Loro l'hanno fatto proprio nei momenti più importanti e noi non siamo stati capaci. L'impegno sicuramente c'è stato, come devo dire dopo la partita col Bologna, veramente disastrosa, c'è stato sempre impegno in tutte le altre partite. Il rammarico è non riuscire a dare una gioia al pubblico di casa. Visto che siamo riusciti a vincere una partita in trasferta, mi avrebbe fatto molto piacere per noi, per la classifica, per la dirigenza e per il pubblico vincere anche una partita in casa. Il nostro scopo sarà quello di farlo da qui alla fine. Era uno scontro diretto perché improvvisamente con la vostra fiammata in trasferta a Cosenza si era riaperta anche la possibilità di salvezza. Certo, adesso gestire questa sconfitta con il Rapallo come sarà per Maurizio Gobbi, allenatore e per il Pescara Palla Nuoto? Noi abbiamo cinque partite, sulla carta tutte proibitive o quasi, però per noi la proibitiva è anche quella di Cosenza, poi andando un po' liberi di mente abbiamo vinto la partita bene lì. Non ci possiamo tirare indietro fin quando la matematica non ci condanna. Probabilmente il Rapallo è andato via, ma i risultati saranno quelli che penso. Cosenza è sempre a quattro punti, quindi ha due vittorie da noi e hanno un calendario molto difficile anche loro. Per cui abbiamo il dovere in questi ultimi cinque partiti di provarci senz'altro fino alla fine. È proprio tutto per questa terza edizione del TG6. Il nostro notiziario torna domani alle ore nel 14. Buonanotte. Buonanotte.